E' durata appena 10 minuti la seduta straordinaria di oggi del Consiglio Comunale chiamato a modificare il regolamento POIC. Il consigliere di Forza Italia Michele Paes critica la maggioranza. Il giorno dopo la presentazione degli eventi culturali di spettacolo per l'estate l'ex sindaco e ora consigliere regionale Marco Tedde critica la giunta Bruno e dice programma povero. Nel cartellone degli eventi estivi spicca l'appuntamento con i Fosse de San Juan organizzato dalla Proloco di Alghero presieduta da Raniero Selva. Oggi la sfilata dei cavalli, martedì sera il rito del comparatico e il salto del fuoco. Un saluto a tutti voi ben ritrovati con il telegiornale di Alghero su Catalan TV. Telegiornale che apriamo con la politica perché questa mattina alle 9 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente per la modifica del regolamento di disciplina delle agevolazioni contributive a favore di nuove imprese e di imprese beneficiari di finanziamenti POIC. Una seduta durata pochissimo sulla quale il Consigliere Comunale di Forza Italia Michele Paes critica la maggioranza. Sentiamo perché. Michele Paes, Consigliere Comunale di Forza Italia. Oggi si doveva parlare in Consiglio Comunale e si doveva approvare una modifica al regolamento POIC. Però si è parlato solo di questo, di fatto una seduta brevissima del Consiglio Comunale. Una seduta fin troppo breve, una seduta che è durata 9 minuti, costata le casse comunali 4.000 euro. Quindi il Consiglio Comunale segna un altro record, 9 minuti 4.000 euro per sanare e correggere un errore fatto dall'amministrazione. Infatti consideriamo che il Consiglio Comunale si è dovuto riunire a seguito di una modifica richiesta dalla Regione sul regolamento POIC. Laddove già Forza Italia, per la precisione del sottoscritto, aveva evidenziato tutta una serie di incongruenze che l'amministrazione non ha voluto porvi il rimedio. Oggi il Consiglio Comunale si è riunito in seduta straordinaria urgente per approvare una modifica, quindi un errore che è costato ulteriori 4.000 euro. Quindi una modifica di una modifica. Peraltro si poteva discutere di altro, nel senso che vi sono problemi anche impellenti, non è assolutamente giustificabile il fatto che il Consiglio Comunale lavori per ogni seduta per un tempo così breve. Ricordo che c'è il problema impellente dei dieci lavoratori del Verde che finiscono il loro contratto lunedì. Siamo in piena emergenza, punteruro rosso. Si sarebbe potuto quantomeno discutere di questo, visto il fatto che il Comune era occupato dai medesimi lavoratori, invece dopo nove minuti i consiglieri hanno abbandonato l'aula probabilmente occupati in faccende personali relative al weekend. Io penso che un atteggiamento e un comportamento del genere non sia più tollerabile. È ora di finirla con atteggiamenti simili, con un'inconcludenza che non è più giustificabile perché la gente fuori aspetta delle risposte che noi non stiamo riuscendo a fornire. Quindi questa amministrazione continua nella sua azione di inconcludenza totale che penso che non possa più essere tollerata oltre. Ora lasciamo la politica per un attimo, cambiamo argomento perché entra nel vivo il confronto con Trento, leader nelle politiche familiari. Ieri l'incontro a Sant'Anna alla presenza di Luciano Malfer, direttore dell'Agenzia per la Famiglia della provincia autonoma di Trento. È stato accolto dal sindaco Mario Bruno, dagli assessori e dirigenti comunali competenti e dai funzionari di settore. Con lui e i più stretti collaboratori si confronteranno i referenti della pubblica amministrazione algherese al fine di attivare con successo una serie di attività in grado di innalzare le competenze degli operatori e migliorare i servizi erogati ai cittadini. Siamo qui per progettare per i prossimi anni una vera città a misura di famiglia, ha detto il sindaco in apertura dei lavori. Si è proseguito nel pomeriggio quindi nella sala conferenze del complesso dell'Uqualte con un convegno pubblico moderato dal giornalista ed esperto Sergio Nuvoli, a cui hanno dato il contributo diversi attori e protagonisti nel settore dei due territori Alghero e Trento. Sono stati organizzati inoltre anche i due lavoratori in piazza, riservati ai bambini, amorevoli intrecci e casa in movimento e il trucca bimbi. E ora torniamo con la politica perché ieri è stato presentato dall'amministrazione il cartellone di eventi estivi, un programma povero secondo l'ex sindaco e la consigliere regionale Marco Ted che critica la giunta Bruno ricordando gli anni del festival gay. Marco Ted, come gruppo di Forza Italia nei giorni scorsi avevate criticato l'amministrazione Bruno per la programmazione degli eventi estivi, ieri è stato presentato il cartellone degli eventi del 2015, voi per tanti anni avete portato ad Alghero il festival gay, come vede questo cartellone? Il festival gay sicuramente evoca dei bellissimi ricordi, tantissimi artisti internazionali e nazionali hanno calcato le scene e il palcoscenico dell'anfiteatro di Maria Pia, da di Bridgewater per arrivare a James Brown e Michael Bublé, per giungere poi a Baglioni, Elisa, Dalla, tutti coloro che effettivamente potevano definirsi artisti di grandissimo livello sono arrivati ad Alghero, anche Bisio, anche Grillo quando faceva il comico. Oggi purtroppo abbiamo sentito un calendario piuttosto modesto, probabilmente figlio della temperie politica e culturale che sta vivendo questo territorio, però credo che sarebbe potuto fare qualcosa di più, le uniche colonne importanti sono due eventi organizzati da altri soggetti, cioè dalla Proloco di Alghero, di Raniero Selva e da Nicolai Nieddu e Costantino Marcias, cioè lo Sfoze San Juan e il Grand Prix del Corallo, due eventi importantissimi che hanno una loro storia e che oggi vengono inseriti in questo cartellone. credo che sarebbe potuto fare molto di più, noi nel 2011 abbiamo speso 150 mila euro ma abbiamo sicuramente programmato un'estate unica con artisti di grandissimo livello, anche questa amministrazione avrebbe potuto fare di più, magari con qualche sforzo di fantasia o di intelligenza avrebbe potuto portare qualche artista di livello non dico mondiale ma quantomeno nazionale e comunque fare un calendario diverso, programmato bene, annunciato prima, promosso, perché tra l'altro non abbiamo visto brochure, non abbiamo visto pieghevoli pubblicitari, non c'è la promozione del territorio con questo calendario, c'è la possibilità di allietare qualche serata a qualche algherese, qualche turista, però non c'è la possibilità di promuovere il territorio, questi calendari, queste programmazioni si fanno per promuovere il territorio. Cosa avrebbe dovuto fare in sostanza l'amministrazione di Peruno secondo lei? Io credo che con qualche decina e migliaia di euro avrebbe sicuramente potuto portare qualche artista nazionale ma quello che più dispiace è che in questa programmazione non ci sia assolutamente la cultura popolare algherese. Io credo che la cultura popolare algherese sia una ricchezza, un patrimonio inestimabile che noi dobbiamo valorizzare e dobbiamo anche utilizzare per mettere in risalto quella singolarità, quelle caratteristiche uniche e peculiari di questo territorio, di questo popolo che costituiscono un grosso attrattore turistico, quindi arte varia, musica, canzoni, artigianato artistico algherese avrebbero potuto fare da contorno a questo calendario che è piuttosto modesto come dicevo poc'anzi. Le associazioni, gli artisti algheresi meritano di poter partecipare. Io credo che Bruno comunque potrebbe ancora adesso aprire un tavolo di confronto con tutte le associazioni, gli artisti algheresi e organizzare eventi che possano portare il nome di Alghero in tutta Italia, in tutto il mondo se possibile ma comunque questo patrimonio immateriale deve essere promosso perché è importante alla stessa stregua del patrimonio immateriale costituito da valori ambientali, paesaggistici che ricordano Alghero, che fanno ricordare Alghero ancora meglio a tutti i turisti che qui ad Alghero vengono. Ecco si sarebbe potuto fare una cosa del genere anche per il rally, anche se comunque l'evento sembra sia andato bene. L'evento rally mondiale è andato benissimo, tra le altre cose abbiamo rischiato di non averlo, tutto il territorio lo ha difeso, ha difeso tutta la politica ad eccezione di qualche autorevole rappresentante della politica locale, però è andato benissimo. Ecco, ma anche nel rally avremmo potuto inserire in questo contesto, in questo scenario internazionale avremmo potuto inserire la cultura popolare algherese, la nostra bandiera, avremmo potuto far partecipare a contorno cantanti, artisti algheresi, mettere in mostra l'artigianato algherese, cosa che non è stata fatta ma spero che si faccia il prossimo anno. I comitati di Borgata di Maristella, Sassegada Tancafarrà e Guardia Grande Corea in un comunicato congiunto, plaudono l'amministrazione per il piccolo passo dell'ausin sociale in agro, ma ricordano l'impegno preso dal sindaco di approvare entro questo giugno il piano di conservazione e valorizzazione della bonifica di Alghero. In una nota i comitati di Borgata ricordano il via libera da parte del Consiglio Comunale lo scorso dicembre della mozione riguardante l'approvazione entro giugno del piano di conservazione e valorizzazione della bonifica. Ricordiamo che sono in arrivo dall'Europa oltre un miliardo e 300 milioni di euro per lo sviluppo rurale sardo che consentirebbero alle imprese agricole esistenti e ai nuovi imprenditori agricoli di tornare ad investire. Quindi lavoro e casa, i due pilastri che l'amministrazione comunale afferma di porre al primo posto nella propria agenda per Alghero, sottolineano. Abbiamo lavorato in modo concordato e con perfetto tempismo per produrre una bozza del piano di conservazione e valorizzazione della bonifica di Alghero nelle mani del sindaco dal 21 di aprile. Sindaco, scrivono i comitati, che in una recente intervista ha dichiarato di essere in ottimi rapporti con la regione, aggiungendo che la mozione per il piano di conservazione e valorizzazione della bonifica fosse stata presentata ad Alghero e dal PD locale. Al di là delle schermaglie, quindi, su questo punto c'è perfetto accordo, pertanto chiediamo grande senso di responsabilità, si legge ancora nella nota, che si conclude con un invito. Ci aspettiamo un'azione congiunta, se necessaria, per approfittare dello spiraglio tecnico per il quale è d'obbligo la volontà politica che consentirebbe l'approvazione del piano di valorizzazione, già pronto in modo autonomo e anticipato, rispetto all'approvazione di un PUC che prevede tempi nettamente più lunghi. Chiediamo al sindaco a che punto siamo. L'assessorato ai servizi sociali propone alle persone diversamente abili, minori, giovani, adulti, di età non superiore e 65 anni, un servizio spiaggia con supporto socio-assistenziale allo scopo di promuovere il benessere e l'integrazione sociale. Il servizio prevede l'accesso a uno stabilimento balneare sul litorale di Alghero dotato di attrezzature idonee e comprende l'accompagnamento dal domicilio alla struttura balneare e viceversa. Possono usufruire del servizio le persone diversamente abili residenti nel comune di Alghero, per accedere al servizio indispensabile essere in regola con le contribuzioni relative alle annualità pregresse. Le persone interessate a iscriversi al servizio possono ritirare l'apposito modulo presso il front office dell'assessorato ai servizi sociali in viale della resistenza numero 17 fino al 30 giugno nei seguenti giorni, dal martedì al venerdì dalle 10.30 alle 13 e il martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 o scaricarlo dal sito internet del comune di Alghero all'indirizzo www.comune.alghero.ss.it. Ora spazio alla pubblicità tra poco. Ben ritrovati con la seconda parte del nostro telegiornale. Lunedì 22 giugno avranno inizio gli orali dell'esame di Stato presso la Scuola Media dell'Istituto Comprensivo numero 2 di Alghero, diretta dalla dottoressa Angela Kervedu. Per l'occasione tre alunni del plesso Maria Carta sosterranno parte del colloquio in lingua sarda e algherese. In limba gli alunni affronteranno argomenti di storia e di letteratura, mentre sporranno le scienze in algherese. La scelta di utilizzare le due lingue rispecchia la situazione linguistica tipica di Alghero dove convivono la lingua sarda e quella algherese, tema molto caro alla professoressa Luigina Canu che ha coordinato i lavori. L'esame di licenza medio è il primo esame che i ragazzi affrontano nella loro vita scolastica e scegliere di utilizzare la lingua di casa per questo momento così importante è motivo di orgoglio per l'Istituto Comprensivo numero 2 che da anni si contraddistingue in città per l'attenzione dedicata alla conoscenza della storia, delle tradizioni dei personaggi della nostra terra. E torniamo in questa seconda parte del telegiornale sugli eventi estivi presentati ieri perché uno degli appuntamenti più attesi, quello dei Fox de San Juan che entra nel vivo questo weekend. Ne abbiamo parlato con Raniero Selva, presidente della Proloco che organizza l'evento. Siamo in compagnia di Raniero Selva, presidente della Proloco di Alghero perché oggi di fatto parte la grande manifestazione che sono i Fox de San Juan. Come si snoderà la manifestazione? Diciamo che la manifestazione è iniziata il 15 con la ristorazione, con l'associazione Saberi Sabor è nato nel menù dei ristoranti della festa di San Giovanni che si concluderà il 5 di luglio. Ci sono una serie di eventi giornalieri, settimanali e voglio però ricordare questo, la festa di San Giovanni, quest'anno è dedicata a un personaggio della banda musicale da Lirci, Giovanni D'Ore. Ci sarà infatti un concerto della banda musicale lunedì e nello stesso tempo a un ragazzo, Luca Scognamillo che prematuramente è scomparso qualche anno fa. I genitori ogni anno ci regalano delle poesie inedite. Questa festa vogliamo ricordare è una festa della città, una festa di tutti, ma soprattutto una festa che tocca il cuore delle persone perché saltare il fuoco e diventare compari e comari crea un legame indissolubile. Noi la stiamo ripetendo ogni anno e vedo ci sono estreme difficoltà, vorremmo che fosse capita, fosse digerita di più anche questa festa, ma è entrata comunque nel cuore delle persone. Quello che vi chiediamo è di scrivervi presso l'ufficio turistico e cuore di via Carlo Alberto e ritrovarci tutti poi martedì 23 in Piazza Civica alle ore 19.30 per iniziare il viaggio che ci condurrà poi in spiaggia per l'ascensione del Grande Falò. Oggi ci sarà una bellissima manifestazione che è quella dei cavalli e anche un concerto di un ragazzo che suona l'arpa nella spiaggia di San Giovanni. Vi aspettiamo e vorremmo che tutti possiate stare con noi per festeggiare, divertirsi e sorridere perché ogni tanto bisognerà pur sorridere e credo che ci faccia anche bene. E tra gli eventi organizzati per la festività di San Giovanni c'è quella curata dall'Associazione Culturale Gastronomica Saveri Sabor per lunedì 22 giugno alle 19.00. Nella torre di San Giovanni, Largo San Francesco, si terrà infatti una conferenza dal titolo Dalle erbe di San Giovanni alle piante aromatiche della cucina algerese. La conferenza intende approfondire i temi sulle piante officinali dal punto di vista terapeutico e le piante aromatiche usate nella tradizione gastronomica algerese con l'ausilio di due esperte erboriste, Gabriella e Luciana Lapia, titolari dell'azienda agricola di produzione di piante officinali e dell'erboristeria Montricos di Nuoro. E oggi, aspettando il sostizio d'estate, torna Letti di Notte, la manifestazione promossa da letteratura rinnovabile che tiene aperte per una notte le librerie di tutta Italia. La libreria Sirano di Alghero festeggia l'evento a partire dalle 21.30 insieme a Stefania Divertito, una giornalista napoletana che si è occupata di inchieste ambientali e che ha appena pubblicato con le edizioni NN Una spiaggia troppo bianca, il suo primo romanzo. Durante la serata Stefania Divertito dialogherà del suo romanzo con Elias Vacca. E ora un passaggio sullo sport perché si conclude stasera con le finali il quinto torneo di calcio a 5 ricordando Antonello Sorbara, organizzato dalla Nettuno Calcio in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano della provincia di Sassari. Al torneo hanno partecipato 8 squadre che dallo scorso 18 maggio si sono sfidate inizialmente in una fase gironi per poi approdare alle finali in programma appunto questa sera a partire dalle 20.00. Per il terzo e quarto posto si incontreranno Emeri Ambiente e Studio Dettori, quindi per la vittoria del torneo Lusmolz con CMA. Al termine delle gare saranno premiate tutte le squadre che hanno partecipato al torneo. Alla formazione vincitrice invece andrà la Coppa del primo classificato, il trofeo Antonello Sorbara che i vincitori rimetteranno in palio nell'edizione 2016. A seguire sarà premiato il miglior giocatore del torneo, mentre come lo scorso anno la Nettuno consegnerà al miglior portiere il premio Franco Burruni, in ricordo dell'amatissimo portiere algherese prematuramente scomparso. La famiglia Sorbara coglie l'occasione per ringraziare tutte le squadre che hanno partecipato al torneo e tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione. E così chiudiamo l'edizione odierna del nostro telegiornale. Ora spazio le previsioni del tempo per domani. Grazie e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.